salve a tutti e ben ritrovati in un nuovo video di fasmofobia sempre qui con noi tre io devo il trigger lara padawan ciao e leni russo ciao 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 eccoci qua stiamo col moccolotto in mano aspettate che lancio ma perché perché fa sta cosa no perché c'era un'altra allora allora non dico che siamo migliorati perché tanto è una stronzata la pregna nessuno ci crede tanto ormai lo sanno che stanno tre pippe beh chi può dirlo magari però promettiamo fuoco e scintiglia si fuoco e fiamme yes useremo molto di più vedrete la voglia oggi facciamoci fuori tutti i fantasmi del quartiere non solo la casa tutta la via dove stai guardando ho raccolto ho raccolto l'altro blu si che voglio portare portare tutto sul sul furgone io intanto faccio scritto il campo di battaglia ma perché vorremmo partire allora se i vari vari sembra che lara stia pregando una divinità comunque va bene si qui vicino vedi al moto al motto si andate nel meno c'è il glow stick che vuole esatto è vero come il meno che ti rimane in mano il glow stick ah è vero ci si può aiere prontizzare lo stesso però sì sì prontizziamo e danno se ci siamo l'abbiamo cambiato volto sono esatto mannaggia sti verbi ok allora pronto e iniziamo dai e rimane io devo guardare trattatevi bene dove mi vedete allora sì ecco una bellissima signorina che fa e che e batte i pezzi land voglio ma che stai a fare come una cosa stavo guardando dai speriamo non ci provate no 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 anzi ma cosa fa niente tastatina scusa ma come in tutti i videogiochi tu vuoi vuoi che le coppie scoppino cioè adesso che si crea l'occasione sono voci infondate no no fondatissime andate a guardare la lancia questa che voglio questa qua io questa è quella che è più potente non me lo ricordo vabbè signorina si chiama giorgia giorgia ci vuole vincenzo giorgia che ci ha preso un senso no ma l'abbiamo comprato porca miseria mi sono ce l'ho ce l'hai allora però solo uno il microfono direzionale l'avete preso perché serve io l'ho preso eccolo e scatta una foto qualcuno prenda la macchina fotografia ok te visti vogliamo mettere anche il sensore di movimento che ho preso io ma cos'è sto cosa col cono è il microfono direzionale si il microfono direzionale e funge è con un microfono direzionale ci serve questo chi ha comprato diamo le chiavi le chiavi le chiavi ce l'ho andiamo da che parte non accendete le luci no perché hai scelto questa de casa porca buon sono francese questa è bella grossa ma poi qui allora le luci senza che le accendiamo le no 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 non le accendo dove sei di già vada nella stanza col coniglietto lei eh lenn abbiamo scoperto che se se parli con b si ehm si è il walkie talk parli come fossi alla radio eh giorgia è qui giorgia i'm coming mi sono messa paura qualcuno ha il rilevatore si eh ce l'ho io ce l'ho io però non sento la mossa guarda il fantasmino quando compare eh ma no mi dovete fare luce però no quello lì c'è la dev no quello del fantasmino ce l'ha dev no ce l'hai tu no ce l'ho io è lui che ce l'ha ah ce l'ho e dove sta però dobbiamo stare da soli se no non rispondo ah ok lì è dove c'è il coniglietto ma diceva la stessa cosa non mi seguite l'altra volta ti ricordi fuori fuori allora aspetta devo parlare col fantasma parli parli col fantasma sei qui dove sei non risponde ma non si vede una pippa è perché dovevi prendertela una torcia se se devi restare da solo ti conviene c'è una luce rossa dev c'è una luce rossa che sta vicino verso noi dove cos'è ma cos'è ma vaffanove dev ma è dev scusami non cominci a fare a lupo a lupo l'altra volta si è manifestato coi piatti che volavano e tutto il resto quindi si mi sa che dobbiamo andare su ah poi ho letto che se premiamo i walkie talkie quando c'è la caccia ci può prendere più facilmente ah quindi è meglio non farlo eh saliamo su ok ragazzi qui si muove qualcosa ma dove vediamo al mio sensore al mio microfono direzionale sei qui no mi sa che stava giù eh giorgia sei qui no non parlare a walkie talkie fai con v vai meglio ho parlato con v no con v con v con v ho parlato io perché mi si sentiva in walkie talkie si ma dove sei giorgia no giorgia non risponde sta stronzo giorgia come sta stronzo cioè già si fatta le mica telefono non va no qua birretta allora io ho immaginare chi vedrà il video che vedrà tutto buio io ho un 05 qua e beh bisogna anche accettare 05 direzionando del della dove che controlliamo qui qua qui proviamo andare qua lasciatemi in questa stanza ti lasciamo in questa stanza va bene sei qui adesso confondo te o dev penso che sei dev vuoi mostrarti no non vuole rispondere giorgia giorgia i'm coming qua non sembra che ci sia un movimento di nessun tipo il bagno c'è l'osso a forza nel bagno anche i nostri non è calda i'm coming questo non vuole rispondere io ho deciso di un messaggio poi dovrà cominciare a fare scusate scusate però come non abbiamo previsto che giustamente riguarda il video non vede la ceppa veramente in vedo niente io abito abito di alla luce io mi ho la script box qua c'è qualcosa qua vicino al manichino però è stato breve per un breve momento ho sentito un battito di cuore tipo si adesso non lo fa più giorgia sei qui avete preso la macchina fotografica si ce l'ho io però tanto non c'è niente da fotografare devo mettere il sale no vincenzo sei qui prendi questa cosa metti la no sta qua rega dove la sedia ha buttato per terra la sedia a dove dove ah già mettiamo il libro io mi preparo con la macchina fotografica giorgia sei qui si è giorgia eh si è giorgia ma io ho detto proprio giorgia lei si chiama giorgia no giorgia si dice va bene giorgina giorgietta perché è butta perché ho buttato il microfono ma spirit box no io ho buttato il microfono eh avrei schiacciato g ma porca buzola sono pronto con l'incenso però io vorrei capire sei qua georgia sei qui giorgina giorgietta adesso ti senti che no ma qua non da c'è niente a parte che diceva tre di attività totale sì anzi quattro timido giorgia sei qui eh non si vede bene la spirit box qui non c'è però secondo me sa qua scrivi giorgia cosa vuoi da noi giorgia no ci sono no non lo dite come si incazza eh beh deve incazzarsi cosa vuoi non devo dirgli cosa vuoi eh no come possiamo aiutarti forse no pure quello anche quello non gli piace eh vabbè insomma sti fantasmi sono un po' che cosa stai facendo c'è attività no la vogliamo lasciare un attimo sola vediamo se scrive ah aspetta no aspetta sai che faccio metto oh attività sei dove questo sul furgone eh eh però non si sa dove qua di attività non ce n'è aspetta scusa com'è che si piazza questa però io non lo so ma cos'è il microfono no è la ah il come si chiama il rilevatore si sta suonando è lei ma dai ho capito ma fatemi ecco qua ecco qua mezzo là eh deve essere preso un coccolone eh ah così si mette ma lo rileva dal furgone quello eh si eh mettiamo anche la macchina la telecamera c'è qualcosa regà ma dove sento rumore che sembra proprio da qua sembra proprio venire dall'ottritumba no ma non sembra ragazzi io ho il microfono direzionale fidati di ecco si è spenta la luce ragazzi vediamo damose damose uh il rilevatore si è acceso il rilevatore che hai messo Lara si è acceso sì dai andiamo a vedere andiamo a vedere però non so dove si rileva dove si rileva vedete attività per caso eh qualcosina effetti sono sensori sonori però niente io vedo zero ma c'era adesso tre ma davy invece di scappare dovevi accendere il coso vincenzo 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 ma perchè è uscito il fantasma no però si è rileva vabbè rivelato no giusto Len si Giorgia vai incendi incendi vai non avevi paura Giorgia tanto prende me non c'è problema tanto prende me Giorgia no sta qua sta qua ha scritto qualcosa non ha scritto niente no io toglierei lo spirit box e il libro tanto lo scrive rimangono il banshee il gin no ragazzi ragazzi prima il sensore di movimento è perchè ci son passato davanti io ma vaffanello vedi che si accende ma io dico buh ero così convinta aveva anche spento la luce che infame che fantasma infame Giorgia sei qui? dai fatti fare una foto Giorgia ora chiamo col walkie talkie Giorgia sei qui? chiama chiama col walkie talkie mostrati Giorgia sei un mostro? cazzo no io sento attività di qua però sento rumori di qua a dove? qua verso la cucina Gli c'ha il termometro? no l'ho preso aspetta vado a prenderlo io intanto ho messo il coso quindi c'ho uno slot libero c'ho una mano libera io prenderei la telecamera invece ma invece ti andate si aspetta mazi eccomi guarda guarda subito che torna indietro tanto questo non serve a niente perchè non vuole non vuole essere utile Giorgia sei qui? guarda prendere la telecamera ha la presa io? ah no la posso prendere ce l'ho io ce l'ho io c'è ma dove la possiamo mettere? non avere la luce la stessa cosa io la metterei qua no però c'è il libro no lo dobbiamo mettere dove c'è attività allora è che non c'è spazio da nessuna parte butto giù anche questo sensore tanto è acceso e vado a prendere il sale voglio vedere se saleggia? si se è uno spirito che non si posa per terra ghost hunt si chiama sto sale dove lo vogliamo mettere? beh io lo metterei qui dove Len c'ha avuto Giorgia mostrati ok ho messo la telecamera come si mette il sale? e con l'F F? fai un cicinin non ci sono impronte se salissimo su il libro è sempre qua ok e proviamo Giorgia sei qui? Giorgia sei qui? uh la macchina fotografica sta facendo il puntatore vedete il puntatore di OTS avete visto? eh si 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 sta succedendo qualcosa sta succedendo molte cose sta prendendo me sta prendendo me ok ok non m'ha preso non m'ha preso perché ho acceso un incenso una foto l'avrò fatta una foto l'avrò fatta una foto l'avrò fatta in tutto ciò no? eh io pure l'avrò presa questo coso no? andiamo a vedere se abbiamo fatto qualche obiettivo ma che ci ho chiuso la porta? eh si sta stronza è come una stronza hai precisa io intanto voglio anche guardare guarda 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 vediamo tutti e tre gli obiettivi fatti hai visto? lo ho visto? hai visto? diamo se sì ma aspettate un secondo che guarda un attimo qua è un attimo perché mi sembrava vedere una luce nella telecamera no forse era una delle vostre torce vogliamo sfere di luce niente va bene ok allora allora dai allora mf no libro spiritico no temperamentura no il pintatore puntatori sì ok lo spirit box no non c'era box pure sino sì no 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 perché non ha risposto a ok il libro nemmeno allora solo il pintatore rimane solo l'oni come a me sì ma perché hai tolto tutte le altre ho sbarrato impronte digitali sfere di luce libro spiritico e spirit box ok rimane solo l'oni vero sì proviamo dai c'è andata di culo mazza tutte e tre la prima volta è un play guadagniamo un sacco di soldi da questa foto del fantasma non si può vedere e non so io ho fatto foto a caso niente ai qua e qua guarda perché mi si era vedi che aveva la macchina fotografica aveva fatto un po di di flash si si vede che lì è stato il momento vabbè io chiudo allora vai vai ma di mario oh che bello dai ieri notte facciamo tutti e tre gli obiettivi guarda la nostra sanità come si è abbassata mamma mia abbiamo strippato parecchio dai su forza no era il re no peccato però però sono contenta 76 dollari e sono a livello io sono a livello 8 wow abbiamo sbloccato il microfono quell'altro e ho visto che io in teoria avrei già comprato io sono a livello 8 abbiamo fatto tutto praticamente aspetta voglio vedere prima se ci dice le frasi riconosciute zero o abbiamo sempre zero come frasi riconosciute diciamo le esito infatti non sono aperto quel coso perché sennò lì c'è ci stanno tutte le frasi da dire 17 secondi nella stanza infestato allora aggiungo tutto cos'altro possiamo comprare l'interessante adesso vincenzo ce l'abbiamo vincenzo allora sto ancora a livello 6 e questo è il sensore sonoro ma la posso comprare sì la posso comprare io questa questa la compro assolutamente la telecamera da mettere sulla testa vediamo se me l'ha messa telecamera sulla testa fantastico questa qua è importantissima poi vediamo cos'altro si può comprare di nuovo e c'è questo ci sarebbe il sensore sonoro ma si può comprare vediamo vediamo se ce lo compri te non lo compro io vabbè tanto più sono meglio è aggiungi vediamo l'ho preso non troppo riva delle camera sulla testa sensore io non lo che cos'è che ci manca e ci serve qualcosa ma fortuna il maledetto non l'ha messo il sensore sonoro mi sa che non comunque quando si vede il fantasma provo a comprarlo io no no aspetta aspetta guarda 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 adesso adesso c'è sensore sonoro sì l'ho preso l'ho preso io ho già speso e vabbè fa niente ne abbiamo due il problema è che se moriamo ma che cosa sta facendo debba ho fatto uno screenshot bellissimo la macchietta fotografica ho fatto lo screenshot del secolo proprio mamma mia dove sono le cose che usavo prima dov'è il glow stick eccolo qua chi li ha rimessi a posto allora cosa cosa abbiamo wind io sono rimasta con 45 dollari deb le ha tirato in testa il glow stick ma va la turin te cool te cool come si dice vabbè siamo pronti per un'altra avventura vogliamo scegliere una casa meno dispersiva si prendete quella piccolina guarda testa il glow stick come davanti vediamo se lo tiro sì l'ho tirata allora vabbè prendi la prima la prima casa esatto ci abbiamo tutto yes abbiamo l'oppo duma no mando mando ma sarebbe andiamo diamo ed imparo perché adesso dice che sto a sette che stavo a otto anch'io stavo io sto a sette ma non lo so perché allora io voglio la telecamera sulla testa dov'è anch'io e come si mette però ci avremo già sulla testa qualcuno prenda il crocifisso me ne occupo io io il crocifisso mi prendo il sale ma io non la vedo la telecamera sulla testa comunque questo qua è il sensore microfono ok che dobbiamo fare questa qua allora si chiama megan ma tutte donne ragazzi se non vengo la squadra mi ha detto però scusa alzati aspetta aspetta stai ferma così Lara perché perché con la telecamera sulla testa sei stupenda parlo io con questa megan tra donne ci capiremo ok perfetto bene bene sì sì io che devo fare niente devo fare una foto tu fai foto e prendo questi sensori il sale l'avete preso questo prendiamo il sensore di movimento pure oppure questo il microfono direzionale che ma avete il sale avete già preso ok perfetto io c'ho crocifisso megan ok andiamo eh ma io però ho ancora spazio ne devo prendere un'altra di cosa cosa prendo questo prendi il sensore di movimento sì è sempre il mio must ma quindi se io faccio così come scatto la foto ma io vorrei no più che altro come si usa la telecamera sulla testa vorrei sapere dove sei QF no QT non risponde non risponde sei qui sei qui sei qui guardalo l'ho trovato oh brava prendilo l'ho trovato e qui nel cesso no sento attività in perdi qua ma secondo me qui sto sempre qua ho detto al sarmadio ah ecco la cagata che ho fatto aspettate torno subito che è successo? eh mi sono sbagliata a prenderla a torcia non vedo niente c'è già attività ragazzi e qui ma come si accende la torcia in testa? eh non lo so come si usa la macchinetta in testa? io ce l'ho ma purtroppo purtroppo non lo so ah qua il basement vogliamo andare a vedere se c'è vuoi mostrarli il pentacolo? si andiamo a vedere se c'è il pentacolo andiamo a vedere se c'è il pentacolo? ma non è qua il basement? le basement siamo a cerchio delle vocazioni e di qua no purtroppo non c'è non c'è il pentacolo come purtroppo? eh beh sennò lo accendevi come tuo solito possiamo gatturarlo subito io non so come si usa la telecamera sulla testa sei qui? oh cacchio c'è una tavola Ouija oh prendila prendila dai dai prendila eh no questo è compito tuo Lara mi raccomando quando lasci la tavola Ouija ho letto che bisogna dire arrivederci sennò sei in cazzo ah è vero si si l'ho letto anch'io ma non la posso prendere ragazzi ho le mani piene aspetta è pure io no e allora lasciamo da qua aspetta vado a lasciare un attimo sopra un oggetto ah si beh tanto anche io la seguirei lascerei qui l'ern ah 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 volevo lascio qui all'ingresso no io volevo lasciare questo su allora che posso lasciare lascio questo dai in fretta prima che inizi la caccia eccomi eccomi ecco vedi lì dove sei posizioni ma io volevo andare su non volevo fare qua facciamo qua eh forse è meglio perché così non non possiamo scappare da qui prendila eh non la posso prendere non me la fa prendere con la E? no? no l'altra volta l'avevi presa come dai? ah ah oh oh l'ha detto? oh oh niente però si è mosso o no? si sta muovendo da sola? non mi pare ecco sei qui? ah no porca vacca ah 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 no no però ci ha risposto non è qui quanti anni hai? quanti anni hai? due venti giovani ah sei single? ah 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 che cazzo ti leggo i fantasmi? io non lo so ah 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 ci vuoi uccidere? no domande specifiche no che cazzo di domande fatte e me e che scusa? questa sei cazza cosa vuoi da noi? non 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 ci vuoi più come ti chiami? e qui ha già detto dei no che io li fai cioè sei scemo che dice? no dice no eh però intanto questo qua è impazzito eh no però è qui secondo me sei arrabbiato? oh ha smesso ha smesso e manco io perché pensavo che non avremmo trovato la tavola no me ne so manco un segno attenzione che è tornata che ha scritto? ha scritto? si OPN OPO non ho capito puoi rivedere? cosa vuoi? OPO tipo eh non capisco cosa vuoi da noi? com'è che si chiama che non me lo ricordo più? io manco ho letto Megan ah Megan vent'anni Megan cosa vuoi? cosa vuoi? dai con Luigia però Megan su Megan dove sei? c'è cinque di attività comunque cinque? ma che cosa è andato? se ne va sempre mi sa che non ci dice nient'altro usa il crocifisso se esce Lara eh ce l'ho in mano ok ha fatto tutta la scia di sale Megan cosa vuoi da noi? chissà cosa vorrà Megan che fantasma sei? così almeno dominiamo sul libro lo capito? poi saluto la telecamera ce l'avete voi in testa? salutala poi quando si io ho la telecamera ma non so se la sto usando ha chiuso una porta 18% di salita mentale io sento parlare arrivederci Megan anch'io arrivederci andiamo su perché secondo me sta su no ha chiuso la porta di casa porca zuccia non ti credo no 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 scappo non so dove sono dove sei lei? eh sono andata via ci stava per prendere eh infatti speriamo che sarà iniziata la caccia che significhi che accendiamo le luci così la scacciamo io c'ho un pennello e non ho paura di usarlo eh e che ce ne fai col pennello? l'ho trovato ma come si usa la macchinetta fotografica? eh quello bisognerà vedere vedete con la telecamera in testa? non lo so ma non so se sta riprendendo qualcosa è quello il fatto io scenderei giù con il libro spiritico ma non sta giù? lei ha detto che non stava giù l'hai salutata prima di venire via sì arrivederci ah ok allora si è arrabbiata lo stesso mamma mia ma raga sta qua sta qua sta qua a meno che non le avete aperte voi queste le avete aperte voi? quali? dev no l'armadio qui e la la porta qua ammazza che disegno brutto allora aspetta un attimo allora abbiamo abbiamo fatto un obiettivo ragazzi eh come è? è quello fai assistere un membro della squadra a un evento paranormale quindi ad un evento abbiamo assistito non so quale però adesso manca farla camminare sul sale eh ma il sale bisogna metterlo qua raga sta qua perché l'armadio qui e la porta qui io non l'ho aperti a meno che non l'avete aperti voi ah ma sempre qua allora qua qua qui eh è sempre da queste parti qui 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 venite da me mi vedete? no ah ma tu sei Len si io sono Len non mi chiedevi dove sei tu? qua l'ingresso ah ok l'ingresso qua questo armadio ah l'ha aperto? qua attività e questa porta qua non ne senti se non l'avete aperti voi sta qua qua ma dove? quindi io direi qui raga o sta nell'armadio o sta in questa stanza però scrivi qualcosa vado a prendere non ci sono io con con il crucifisso vado a prendere qualcosa che non so cosa scrivi io ma ci abbiamo solo una pazienza ecco eccoci perfetto grazie l'ha preso adesso muoio no no devo scappare devo scappare via via apri apri no 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 vado a prendere vado a prendere salduna vado a vedero ci sono io niente l'ha preso la stessa come mi avete lasciata sola mi sono stata uccisa e sempre così va a finire maledetti niente quindi attacca guarda ma guarda come sono morto male guarda come sono morto male infatti allora facciamo un bello screenshot alle cioppette di Len no comunque ragazzi allora si è alzato fino a 5 mi pare le MF ed è qua oh merda no è qua è qua ci sono io ci sono io ci sono io sei con me nascondetevi nascondetevi cioè ma ha preso a me con tutto il crocifisso no t'ha preso con tutto il crocifisso dev si è nascosto volevo farti una foto si dev si è nascosto allora tu sei qua ma non sei morta ah si sei morta eccola qua io sto nell'armadio ti conviene uscire si vergogni voi lo vedete si vergogni no non mi sembra che sia morta no no non c'è dai adesso ti apriamo anche la porta è grande ma avete visto che forma c'aveva eh non l'ho visto non l'ho visto mi ha preso alle spalle stavo cercando di nascondermi sei qui ma non me l'ha fatto fare vabbè 10 di attività che peccato però ma chissà che fantasma è adesso abbiamo perso un sacco di roba vorrei vederlo almeno da fantasma eh anch'io qua sulla telecamera non si vede avete perso pure la telecamera in testa senza neanche sapere come si usa fra l'altro chi è che sta aprendo e chiudendo porte? eh io no perché non posso ho 12% di sanità mentale va bene me ne andrei a sto dai aspetta un attimo che veniamo anche noi ci sei Lara? no ecco così facciamo il punto della situazione questo sarà un great perché ci ha ammazzati senza pietà eh ci ha ammazzato senza pietà vediamo allora l'EMF ce l'avevamo io non ho proprio sanità mentale mi si è fottuta non cammina sul sale però eh no non ha camminato sul sale quindi rimane in leggiadria sospeso in aria ma è la cosa la Ouija non funziona come libero spiritico né vedete i great non toccano quasi mai il suolo il che significa che non possono essere intracciati dai passi eh infatti hanno una reazione tossica al sale però spirit box ma lo spirit box ha funzionato? oh non ce l'avevo io ah non ce l'avevo ma si mettiamo great che c'è frega dai proviamo col great vai chiudo? solo una prova abbiamo preso porca buzza andavamo partiti tanto bene però hai preso anche l'osso tu si ho preso l'osso maledetto proprio senza pietà no il gorio cioè il gorio è proprio vabbè ma cioè ma io puo no mi ha anche tolto dei punti e quindi adesso sono un livello 8 comunque danno 10 dollari per far assistere a un membro della tua squadra a un evento paranormale e 10 dollari se trovi un osso ma voglio dire ma queste quantità le vogliamo rivedere un pochettino? si infatti vediamo se c'è frasi riconosciute 0 come al solito dice quando un gorio passa attraverso un puntatore di OTS usare una videocamera è l'unico modo per vederlo eh si mostra la videocamera io ce l'avevo la videocamera e forse bisognerebbe anche bisognerebbe anche leggere queste cose e magari vedere se se le impariamo allora comunque state sempre volando eh allora ma non ci abbiamo più una ceppa vabbè compro io dai eh beh insomma eh si sveni un pochettino che ci manca? tutto che ci abbiamo? partiamo da quello che abbiamo allora eh aspettate che vado qua dunque cosa si cosa ci manca effettivamente? io comprirei un altro paio di pillole calmanti le torce servono e non ne abbiamo più prendo le pillole guarda che prendo la torcia prendo la torcia pure io? torcia potente eh torcia potente? si una serve una serve sicuramente e e e non ho prese quattro di torce? quattro torce no ah ok allora prendo un'altra torcia potente prendo il sensore? sì magari riprendiamo il sensore il microfono eh però io vorrei capire come si utilizza questa cavolo di macchina di eh quella non la ricompro perché non so come si usa eh allora la compro io e cerco di imparare come si usa e la chiamola sulla testa può essere utilizzata per rintracciare le sfere di luce e per ritrovarsi l'un l'altro tra i membri della squadra eh quello è interessante solo che non so come si fa adesso vediamo allora vediamo se ho messo tutto la torcia l'ho messa la telecamera sulla testa l'ho messa cos'altro sai il crocifisso che prendo il microfono crocifissi non ne abbiamo aspetta che prendo il crocifisso eh crocifisso ok tanto ne basta uno vabbè prendo il microfono direzionale eh crocifisso c'è aggiungilo e eh l'accendino ci manca anche l'accendino 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 ma sei sospeso in aria sei sospeso eh sì stellella ok no io ho poi foto aggiungiamo no e l'accendino perché non me l'hai aggiunto infame nessuno ha fatto la foto alla tavola luigia prima eh ammazzate eh siamo apposto ok sì abbiamo perso i sensori però per adesso non c'erano mai serviti quindi fa niente vabbè io ho il microfono direzionale eh ok ok allora facciamo la prossima casa questa eh c'ho lento c'ho c'ho l'ora davanti e non posso prontizzarmi ahahah ahahah mamma eh chi me va bene ok ok ma poi vedete conto pronti ahahah ahahah e ci sei sempre tu davanti eh ma eh non dipende da me ok allora io voglio questa qua David risponde a tutti poi questo e la togge il problema non sono paranormale con il microfono direzionale meno male che l'ho preso ma che ci vuole ce l'ho vuole prendere la telecamera sulla testa ce l'ho la telecamera guardate e se io ho il microfono direzionale non posso avere la spirit box vabbè per cambiare sempre io la prendo allora tiè prendi il microfono direzionale tu tiè mi dite se ho la telecamera sulla testa ma si che ce l'ha si ce l'hai ce l'hai ce l'hai ti faccio una foto? ehm 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 fammi un po' vedere come stai ecco così con il microfono direzionale fermi così non mi muovete lei che c'hai in mano? eh non lo so ho aperto il libro perché c'hai niente vabbè a posto tamose siete pronti? ok qui c'è tanta attività eh ma io non ci sono ah no era qua che l'altra volta ha fatto cadere i piatti pure qui c'era la tavola luigia eh ma accendete le luci incominci a parlare con il fantasma perchè io? eh perchè io? ehm e c'ho la speed box hai capito? david sei qui? ma provi anche con b ah si scusa b sei qui? si vabbè ahahahah vabbè uh ho trovato l'osso esce la x no ma cosa fa? ma cosa state facendo? ma dove siete poi? avriamo e chiudiamo le porte ahahah David sei qui? ma io ho un giornaletto zozzo questo eh questo è un pornografico può essere è un attore di cinema zozzo chi sta fonando? io ahahah e chi può essere? se non so io è lei io vado sopra david sei qui? david sei qui? ah dove? ho trovato qualcosa? david sei qui? a me è uscito un 5 su un microfono direzione eh qua 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 eh qua eh si ma non si vede una cippa ti ha risposto ma dev ma tu sei di sotto ecco adesso no no però ecco qui 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 si qui qui è un 5 a me non da niente david sei qui? le mf non non rileva niente si vuoi mostrarti? david mostrati ahahah io dico con la con la voce sensuala ahahah no a maglio gli fa un maglioncino mmm se ci fosse la tavola luigia eh eh sì due volte può capitare ma eh non si sa mai e chi no? tre che c'è qua? è mezzanotte david sei qui? no compare la x quindi vuol dire che qui non c'è tornerei di sotto raga oh è grossa sta casa ma che siete tornati di sotto? eh sì david sei qui? andiamo di sotto a cercare il pentacolo ahah andiamo ah perchè c'è anche un basement eh sì ma non state ah se c'è il pentacolo accendi subito eh dev non c'è eh no qua non c'è niente vedi un po' se ce la tavola luigia oh qua c'è attività dove dove? 8-3 suona sopra sopra si vicino all' uscita no vicino all' uscita è di qua vicino all' uscita è di qua vicino all' uscita è di qua? eh uh è vero ha ragione qua qua c'è David sei qui? si oh cazzo oh cazzo oh cazzo ma ha detto i'm here i'm here ha detto aspetta che vado a prendere la macchina fotografica no lei già stava al fogone ahahah e lì è lì allora questo voglio David cosa vuoi? eh questo lo butto via e prendo la eh macchina no ma magari la telecamera è meglio prendo la telecamera vai C'è inquietantissimo però che ha detto I'm here Come l'ha detto proprio Eh si ho sentito Allora dovrebbe essere Più o meno puntata qua Ma a te ti rispondono David Uh ha parlato di nuovo Ha parlato di nuovo Si forse Aspetta che metto fuori anche il libro Te Qui David Prendi la signorina Scrivi sul libro David Ma la signorina è Ah è David Ma dov'è stato qua? David scrivi sul libro Ma forse la telecamera la devo puntare di là allora Aspetta Qua così Il sensore l'avete preso? Ce l'ho io il sensore? Il sensore? Qual'è il 5.3? Punta qui Non sto scappando eh Sto andando a prendere cose sul furgone Ve lo assicuro Dai Vede cosa vuoi? Cos'altro c'era da fare qua? Oh vai Allora raggiungi una sanità mentale del 25 Ancora non ci siamo Rileva un suono paranormale Fai assistere a un membro della tua squadra E vabbè Adesso provo a prendere questa Eh però Non abbiamo il microfono Io ce l'ho Ah ce l'hai? Ah allora ce l'hai tu Ok perfetto Io prendo il sale Per simpatia Ma vi ha chiuso la porta No Ah no No Non si azzardi No no Io non sono Siamo l'infame L'infame è lei Che mi chiude in cantina Ecco Qua c'è sei David Quanti anni hai Lasciamo il libro spiritico qui Vediamo che scrive La vediamo dai Usciamo Ha fatto prima Arriva al furgone Che a dire Che libro Vediamo che scrive Eh si È rapido Allora Qua Ma Ma avete messo la telecamera? Ma Ah questa è la mia telecamera sulla testa Guardate Adesso ho capito come funziona Ecco come funziona Io vado dentro e guardo per casa E voi state qua Ah benissimo Vadi Vadi Stiamo per perdere di nuovo la telecamera Ve lo dico Adesso la chiappa David Ma si chiama David Ha scritto sul libro? No Ha scritto niente Ma si chiama David Eh si Si chiama David Ok Skinner David Skinner Lo fa incazzare Hai detto nome e cognome David Ma Guarda che c'è un'impronta sul sale C'è un'impronta sul sale Ma va? È vero Si si Devo fotografare Ma voi vedete con la mia telecamera? Yes Ah Fantastico David C'è lui già Quindi la telecamera si aziona da dentro al furgone Eh si Ma che sta vedendo la tavola? No volevo vedere su scritto Pensata sulla magna David David Quanti anni hai? Dai Andiamo pure noi Che c'è Dobbiamo prendere la pillola? No dovete arrivare a 25 di sanità mentale Non prendete le pillole Ok ok Abbiamo preso tutto in pratica Eh si Abbiamo provato tutto ma La telecamera non l'avevamo comprata quella normale E qua e qua Sul tavolo David sei qui? Lo è sul tavolo quella normale David sei mangiando Stai mangiando? Chi è che ha buttato per terra una torre? Eh lui 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 Tutto lui ha fatto Ma mi sa che non è più qui Ma il crocifisso l'avete buttato voi a terra? Si Eh però non Sembrava uno che si palesava molto Eh parlava anche Ricordiamoci che ha parlato sempre David Di qualcosa Qualsiasi cosa David Dacci un segno David parla Forse siamo troppi No ha detto rispondo a tutti Ah rispondo a tutti Vabbè io toglierei Il libro spiritico Ah ah Tanto non scrivo Avete tolto anche la telecamera Si Si l'ho messa sul cammino Ok Ciao vado a guardare un attimo David sei qui Ma risposto Ti ha risposto? Ha detto che vuole me No non lo so che ha detto Oh però L'ultimo anno è stato da you No no you you Ho detto you Cioè credo sta incazzato David cosa vuoi? David Si ma non si è palesa questo Ma il crocifisso ragazzi guardatelo Guardate il crocifisso Ha tutta la volta Ha tutta la volta Ha tutta la volta Oh nooo Siamo morti Ecco ecco mi ha preso a me Mi ha preso a me Alla fine Eh vabbè Ho stussicato troppo Sono scappata Dave si è messo accanto al cammino Mamma mia È strippato Faccio un bel screenshot Ammazza 10 Oh però ho due obiettivi No Ci manca l'ultimo Ci manca raggiungere una sanità mentale del 25 Eh ma cavoli Più di quello che è successo Aspetta aspetta Allora il microfono Non ci serve più Devo fare uno screenshot di Lara Aspetta Ma raggiungi la sanità Ma la sanità mentale del 25% Ancora non c'è stata regata Dovete tornare dentro No Se lo vedi Diccelo Che forma ha Eh E che ne so No 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 Ce l'hai davanti Lel ce l'hai davanti Ho visto Porca Ho fatto lo screenshot Ho usato l'incenso per C'ha una cetta in mano Una cetta Eh No vai a capire No basta Io non entro più Abbiamo fatto tutti gli obiettivi Basta Lara Tu non puoi andare a vedere I fantasmi su internet Eh sì Però poi Levo Levo l'audio al gioco Capito Cioè non sento più Ne voi Nel gioco Comunque abbiamo un sacco di prove Dai No non è vero Perché devo smicciare Sull'altro monitor Non è vero Abbiamo tutte e tre obiettivi Diamo Allora Vediamo un po' Che può essere Forse lo spirito Cioè ho fatto delle foto Che mi ha Mi ha Mi ha contato Tutte come giuste Tutte da tre Da tre Tre due stelle Wow E fotografa A caso Esatto Mentre c'era il fantasma Ho fotografato a caso Era un rate Ancora Però era magro Rispetto a quello che avevo visto Io Era magro Cioè non era un ciccione Aspetta Vediamo se per caso C'è qualcuno Che parla tanto Perché questo qua parlava E questo qua per esempio È silenzioso Non va bene Beh in realtà Ha parlato E infatti Parlare vicino a uno yokai Lo farà arrabbiare Aumentando la possibilità Di un attacco Forse è un demone Vediamo Demone Temono il crocifisso E in effetti Saranno meno aggressivi Eh però Questo qua Il crocifisso L'ha L'ha Il libro spiritico Non l'ha scritto Eh no Vediamo lo yokai Lo u-ray forse Vediamo Ah ma noi abbiamo Una telecamera Che ho abilmente Posizionato Volevo che non si vede niente Tutte le nostre attrezzature Ma chi c'entra Di un lì Secondo me Vorrebbe essere l'ombra Che sarebbero i u-ray No No Se è i u-ray Non è l'ombra Scusate No Perché mi ha spostato il mouse Lo u-ray Proviamo lo u-ray Allora Sono noti per avere Un effetto più forte Sulla sanità mentale Delle persone Debolezza Usare l'incenso Nel luogo di morte Di uno u-ray Lo intrappolerà Temporaneamente Riducendo la sua capacità Di vagare Le prove Sfera di luce Temperatura E puntatore O dot Ma io l'ho proprio visto È invisibile Eh l'ho proprio visto Pure io Però se è invisibile Io mi ricordo Un fantasma invisibile Ma qual'era Oni Forse è un phantom Gli oni E prova a guardare gli oni Oni Gli oni sono molto più attivi Mentre le persone Sono nelle vicinanze E prosciugheranno La loro sanità mentale Più velocemente Quando si manifestano Debolezza Scompagnano meno spesso Mentre cacciano Il loro prete Prova Mf Temperatura E puntatore Anche alle Mf Proviamo gli oni Soltanto non azzecchiamo mai Perché ci sembra uno e poi è un altro Vogliamo mette Ma come prove che mettiamo qualcosa È solo il contino Il Mf Praticamente No anche le impronte Eh ma non ci sono Non esiste Uno yokai Vuoi mettere lo yokai? Secondo me è lo yokai Dai Eh non so Aspetta Perché ha risposto Alla spirit box Ah allora dobbiamo togliere anche Mf Perché non c'è Sennò Lo yokai Yokai Eh dove cavolo Ah eccolo qua Boh va bene Ok Yokai Proviamo Andiamo Allora quello giusto L'ultimo fantasma di questo episodio Che dite? Sì Beh però abbiamo fatto tutte e tre gli obiettivi Sì e siamo morti tutti quindi No io no Ah no è vero Io sono morta Io sono morta Io sono morta Devil no Pensavo che all'inizio eravamo morta lui Sono morta sia qui che No era il mare 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 Eh vabbè Vabbè Pazienza Oh però 118 Ammazza Però Se ha 10 Nuovo livello Abbiamo sbloccato 13 Willow Street C'è da provare Willow Street Che strippiamo C'è da provare Con livello 9 io Voi Anch'io Però Anch'io Anch'io Non è che si manifesta Questo livello 141 XP Le fotografie hanno fatto pure il loro lavoro Eh avete visto la bravura Però il fantasma non è quello giusto Eh no Eh ma cioè ci sembra sempre un fantasma che poi alla fine non è Cioè va che roba Il mare proprio Va che roba Che poi non ha manco scritto sul libro Qua dice libro spiritico No infatti Dovevamo accendere le luci per non farci attaccare Ecco Adesso mi porto questo Va che abbiamo sbloccato una casetta nuova Wow Allora Lancio questo Lo lanci lo lanci che io lo raccolgo Bravo Ecco Questo glow stick Non saluta quel glow stick in mano Sì fatelo voi Ci salutiamo per questo ennesimo episodio dove io miracolosamente sono sopravvissuto Ecco perché Forse grazie alle mie skill Non si sa Ecco perché vuole chiudere l'episodio qui Esatto perché così non muore Bravo bravo Diciamo che è andato meglio della volta precedente Perché abbiamo fatto bei punti Eh sì Sì perché Completando gli obiettivi ci dà più punti Poi grazie alle foto anche di Lan A questo giro Nice Seguiteci sui nostri canali Fate tutto quello che bisogna fare su un canale YouTube E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti